Settembre nero Settembre nero Settembre nero Settembre nero Grazie a tutti. Un pezzo abbastanza vecchio, ormai oltre 30 anni fa è stato composto, oggi chiaramente non riscriverei queste parole perché ho cambiato completamente idea su tutto, ma diciamo così, la musica mi piace molto e la riarrangerei in maniera completamente diversa. Allora, originariamente, vediamo un po', era... Il ritmo era questo. Il ritmo era il riff della chitarra e oggi invece probabilmente la farei in maniera molto diversa. Grazie a tutti. La cosa del genere, vediamo un po' se riusciamo a riarrangiarla, magari cambiando le parole che ormai non mi trovano più d'accordo con quello che ero a 19 anni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.